Jim, stai riprendendo? No, prof, non sto a fare niente Good morning, beautiful people Sono le 6.49 E io sono in ritardo Good morning to you La prima ora abbiamo ginnastica Infatti, questo è il mio outfit of the day Te la fai in ginnastica? Oh, Betta, la fai in ginnastica? E facciamo ginnastica dopo tanto tempo Perché non l'avevamo mai fatta Non so, pochettere Piccolo aggiornamento di adesso La prof ci aveva chiesto di fare tipo 40 minuti di aerobica E questo è quello che stiamo facendo Ascoltare i gatti Salutate Saluta Antonio Saluta Jing Non so se voi mi capirete Però questo è il periodo in cui ho Indovinate l'allergia Thank you La mattina mi sveglio con occhi gonfissimi Mancano ancora 20 minuti Prima della ricreazione Prima della ricreazione Che piove Che piove Non fatelo mai nella vita perché Si, in fatto si scimano i bittin Come loro facciamo Non facciamo Meni le salle Adesso io vedo Musco sputtese Ho 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 Non avremo Come ci viene Eh, non ci viene Corvo Per me Allora Guardala Neeeee 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 Questo è per non vedere gli edes Che figata Questo no? Vabbè Questa rose è per me Oh Christmas tree Oh Christmas tree Mi vuoi sposare? No Sono happy Vuole dire qualcosa Qualcosa What? L'iscioliscio come il culetto di un bambino La prof sta interrogando E c'ha dato dei compiti Però io non lo voglio Quindi non lo faccio Sei pronto? Come sapete gli amici intimi Si portano ovunque Adesso finalmente dopo due ore di inglese andiamo a fare riflessioni Vi porto con me Però sono paziente Hi C'era E' troppo caldo E' pronto per l'interrogazione? Se volete un tour mi porto a fare il tour della scuola Perché ho finito di fare il tema E' niente E poi per i primi Ravioli, ricotta e ortica E ortica? Penne di camut con asparagi e panno di sorda Ma l'ortica picca Ci stiamo organizzando per l'ultimo giorno di scuola Yaas Stai a vedere fino a ora Primo sul mondo Daniele 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 C'è stata la scena? Jim, stai riprendendo? No prof, non sto a fare niente Secondo me stai riprendendo No prof Jim, vai da classe, forse No prof, non sto a fare niente Jim, basta Profe, non sto a fare niente Jim, vai via Esci Fuori Forza Vabbè Vabbè Sto proprio appena cacciando la scuola Da classe Two hours later Vabbè 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 batterie, così quando vado al mare con i miei friends riesco anche a vloggare tutto perché la macchinetta cioè la batteria non dura tantissimo quindi devo sempre ricaricarla e penso che al mare a meno che non metto la spina nel mare non me la ricarichi quindi ho preso for us mamma mia si muore dal caldo sono appena tornata a casa e ho trovato queste hello party people ho appena finito di guardare pretty little liars se lo guardate potete capire la mia faccia perché è così e dato che non ho niente da fare adesso voglio scartare sta cosa con voi mi da fastidio il piede wow così posso bloccare senza nessuna interruzione e senza avere l'ansia che mi si scarica mettete la macchinetta perché io blocco ogni giorno anche oggi ci siamo divertiti un sacco insieme iscrivetevi al canale perché io vloggo ogni giorno vi saluto attivate le notifiche e noi ci vediamo domani ciao 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 ciao